Ebbene, adesso è il turno di parlare di tennis, nella mattinata italiana oggi alle 4 verso New York, USA, Cemento al coperto si è svolta la sfida dei quarti di finale del torneo ATP tra Andreas, Seppi e Thompson. Il nostro Seppi numero ATP 98 ha vinto per 2 a 1 rimondra contro Thompson numero ATP 63, perdendo il primo set per 7-6, 7-2, invece vincendo il secondo al terzo 6-4, 6-1. Vittoria di Seppi data 2-10, 2-0-2, 2-0-7, ora quindi Seppi vola alle semifinali dove, aspettiamo un attimo la regia, vediamo un po', Sì, dove affronterà Young nella giornata di domani, presumo in mattinata, quindi vive il nostro Seppi che accede alle semifinali, batte nei quarti di finale il numero ATP 63 Thompson in rimonda per 2 a 1. Ciao a tutti!